Yoga è la pacificazione della mente. Posizioni fisiche, respirazione, esercizi mentali, concentrazione, hanno questo obiettivo, placare le fluttuazioni della mente. Quando abbiamo pace nella mente, siamo felici. Ricorda, per il benessere del mio corpo e della mia mente, io yoga. E tu? Ricorda, per la mia mente. Il mio corpo e della mia mente. Grazie a tutti.